Con questa vernice grigia e poi traccerò delle nuove strisce. Ma sono un po' preoccupato. Posso esserle d'aiuto? Caspiterina, che cosa è successo, sergente multa? Beh, ecco. Siamo finiti tutti fuori strada. Guardate come cammino. Ehi, questo polpo ha perso il controllo. Come facciamo ad arrivare alla porta? Benvenuti nel concerto d'organo del polpo. Una volta che il polpo avrà cominciato a suonare, non smetterà più. Perciò alla larga da lui dovrete stare. Quei tentacoli rimbalzano velocemente, vedete? Da un tasto all'altro. Ecco come lo supererete. Rimbalzare veloci da un tasto all'altro? Che...